Buongiorno a tutti e benvenuti. Dunque nella notte appena trascorsa sembra sia stato trovato l'accordo fra Milan e Roma per lo scambio di prestiti secchi fra Ebram e Salemakers che peraltro sono entrambi nella stessa situazione contrattuale nel senso che entrambi vanno a scadenza 2026. Ok, attorno e quindi alla fine di questa stagione sportiva 2024-2025 saranno entrambi a un anno dalla fine del loro contratto e quindi molto della loro carriera futura dipenderà da come giocheranno quest'anno. Quindi Ebram è chiamato a far bene al Milan e Salemakers è chiamato a far bene alla Roma perché questa è la sostanza e la natura delle cose. Questa è la sostanza e la natura del calcio augurarsi che un'operazione di mercato dia una mano nei rispettivi settori se si tratta di scambio alle due squadre. Invece non ho visto onestamente questo dibattito attorno a questa vicenda. La mia posizione la conoscete dal punto di vista tecnico dal punto di vista calcistico per quel che vale. Ebram è un giocatore che può essere da prima punta alternativa dal primo minuto a Morata. Dice Ema ha avuto un grave infortunio. Qualcuno riesce a spiegarmi perché? Il buon Pierre Calulu che è un ragazzo serio, professionale e che è stato protagonista top del nostro scudetto. Il buon Calulu la scorsa stagione ha avuto due gravi infortuni molto grave soprattutto il primo a Napoli però se parte viene dato per perfetto. Ebram ha avuto anche lui un grave infortunio prima di Calulu peraltro perché Ebram l'ha avuto a maggio del 2023 mentre Pierre l'ha avuto a ottobre 2023 anche se infortuni diversi invece Ebram no Ebram non è perfetto Ebram è tutto da vedere, tutto da riconfigurare tutto da riconsiderare per carità so perfettamente che la scorsa stagione Ebram ha giocato molto poco però resta un giocatore di 26 anni che da questo punto di vista può darci una mano dal primo minuto in alternativa a Morata Noi passiamo dal punto di vista delle due prime punte da Giru Jovic a Morata Ebram Jovic in questo momento e mi sembra un miglioramento Jovic continua a pensarlo continua a considerarlo come giocatore degli ultimi 20-30 minuti affiancato magari alla prima punta che ha iniziato la partita nel bailamme delle aree di rigore quando c'è un risultato da recuperare o da raggiungere ecco lì Jovic la scorsa stagione ha dato le risposte migliori ha fatto molti dei suoi nove gol in partite ufficiali però ecco attorno alla vicenda Ebram-Salemakers non ho visto dibattiti calcistici ho visto la formula ho visto i soldi io ho capito subito non ci voleva un'aquila onestamente che a Salemakers più 10 milioni di euro non si sarebbe mai fatta questa operazione per tanti motivi perché è chiaro che Salemakers valutato 15, 16, 17 quello che volete voi in questa operazione sarebbe stata una bella plusvalenza per il Milan ma col conguaglio e con l'ingaggio a Ebram sarebbe diventata un'operazione in negativo e quindi siccome vanno contemperate le situazioni tecniche con quelle economiche non aveva gambe dal nostro punto di vista e capisco che a Salemakers più 10 milioni l'operazione non piaceva ai tifosi rossoneri che considerano l'utilità di Salemakers e che consideravano che 10 milioni potessero servire alla Roma per raggiungere Manucone mi sembra invece che la piega presa questa notte renda più insofferenti i tifosi romanisti tifosi romanisti che evidentemente non vedono conguagli economici a favore della Roma e che rimandano quindi la decisione sul cordone umbilicale con Ebram fra un anno l'augurio è che la formula del prestito secco stimoli al massimo Temi e Ebram al Milan immagino faccia lo stesso con Alexis Salemakers alla Roma ma Salemakers viene da stagioni positive perché ha fatto una stagione intera positiva al Bologna e ha fatto anche una buona estate col Milan al di là diciamo dell'andirivieni di carattere tecnico e tattico nel ruolo della partita fra Milano e Torino però lui si è reso disponibile quindi io sono convinto che Salemakers farà bene e noi dobbiamo fare ogni cosa perché Ebram faccia bene qui da noi perché nel ruolo delle prime punte è importante trovare subito spinta trovare subito l'inerzia giusta dice ma Ebram in Cagliari-Roma non è entrato bene è entrato gli ultimi tre minuti in una squadra che probabilmente in un progetto tecnico in una stagione che non sentiva più sua e ci può stare che nella confusione finale i tocchi non riescano bene io ricordo l'Ebram della prima stagione alla Roma 21-22 era un giocatore che valeva a tutti 40 milioni che erano stati investiti dalla Roma su di lui nell'estate del 2021 oggi siamo nell'estate del 2024 aveva 23 anni ha 26 anni e Ebram ha secondo me una grande voglia di riscatto quindi il Milan non ha dato soldi a nessuno così non abbiamo finanziato il mercato di nessuno ma non lo dico in chiave Roma lo dico in chiave dibattito social fra tifosi e adesso però deve pensare al campo deve pensare al calcio perché una campagna acquisti con una campagna di rafforzamento una campagna estiva con Pavlovice Fofanà con Morata Emerson Royale e Ebram è una campagna acquisti importante che noi dobbiamo saper far fruttare al meglio e al massimo per quanto riguarda invece la Champions League sembra proprio dunque io l'ho approcciata poco questa questa nuova formula della Champions League essendo in tutt'altre faccende affaccendato cioè capire quando la nostra squadra entra al massimo nel campionato però sembra proprio che la settimana dopo la sosta sarà Milan-Venezia Real-Madrid-Milan e derby quindi l'accoppiata Madrid-derby mi ricordo un po' quella della scorsa stagione quando giocammo metà settimana a Parigi e poi a Napoli e speriamo bene ragazzi speriamo bene speriamo bene che ci si metta a posto che la squadra reagisca meraviglioso Juraj Kuczka che avevo incontrato a Milanello alla fine della scorsa stagione con la sua splendida famiglia noi giocheremo con lo Slovan Bratislava là però io spero che la nostra curva ma ne sono sicuro si ricorderà di Juraj perché Juraj nutre nei confronti del Milan un amore avete visto come ha esultato all'idea di giocare con noi secondo me sarebbe stato anche più felice se si fosse giocato a San Siro dove sarebbe stato accolto come merita Juraj il grande trattore però anche a Bratislava i cori di apprezzamento non gli mancheranno grande Juraj ciao a tutti ci vediamo ci vediamo ci vediamo più tanti da Milanello grazie a tutti